Preferiresti vincere la Champions League o il disco di Platino? No, Platino, tutta la vita. Quando era ancora portiere del Fiorenzuola, Nicola Sbattaiola già immaginava il suo futuro da cantante. Ora ha sposato davvero la sua grande passione, lasciando il calcio dei professionisti a soli 27 anni, anche a costo di lavorare in un supermercato nell'attesa e nella speranza di sfondare. Dice di aver colto i segnali del destino, come quello della fine del suo ciclo in maglia rosso-nera in Serie C. Ci sono legami umani, oltre che quelli che crea a livello calcistico e rimarrà sempre nel cuore. Però sì, sentivo che era finito il ciclo e quindi anche quando mi avevano proposto rinnovo non me la sentivo. Nemmeno l'offerta di un contratto biennale del Piacenza in Serie D l'ho fatto tornare sui suoi passi. I tifosi biancorossi hanno preso suo no come un tirarsi indietro, ma la passione di Batta per il calcio era davvero esaurita. Alcuni tifosi l'hanno presa male, in realtà dovrebbero prenderla bene perché ci sono tanti giocatori che magari, non so, sono a fine carriera o magari non trovano squadra dalla Serie C o da categorie superiori e vanno in queste piazze magari senza stimoli. Ora testa solo alla musica. Al reggaeton portato nelle piazze e nei locali di Sanremo durante la settimana del festival per provare a farsi notare. Suoneremo in anteprima al nuovo singolo che è una collaborazione con i bambini di Sanremo con le voci bianche. Sarò il primo artista al reggaeton, giuro. a far cantare dei bambini su un beat reggaeton. Tutto da solo, senza l'aiuto delle etichette. Come sempre controcorrente. Non più a parare i tiri degli attaccanti ma con un microfono in mano verso nuovi orizzonti.